A proposito di questi fondi, che arriveranno come sapete all'Italia e agli altri paesi europei, c'è l'idea della Lamorgese, Ministro dell'Interno, lunga chiacchierata sul foglio, di legare questi fondi alla collaborazione sulla vicenda dei migranti. E dice la Lamorgese, la redistribuzione dei migranti diventi obbligatoria, non volontaria. Il messo per le spese sanitarie è giusto chiederlo, è anche un tema di sicurezza. Dunque, la posizione del Ministro è quella di obbligare i paesi europei a prendersi la loro quota di ricollocamenti, che come sapete spesso è stata evasa, e a quel punto, grazie a questa quota, prendere anche la quota di fondi del Recovery Fund. Ma intanto, a proposito dei fondi europei...